La pioggia degli ultimi giorni ha messo la parola fine, per chi ancora avesse qualche dubbio, sulla stagione estiva nella Pesarese. È tempo dunque di bilanci per le attività del settore turistico e soprattutto per gli albergatori, che tirano le somme di quest'estate da capitale. Per gli alberghi la stagione è andata un po' a chiasse, nel senso che ci sono stati alcuni periodi della stagione che è andata bene, alcuni periodi della stagione che invece non è andata bene. Sicuramente le aspettative erano molto superiori anche in virtù di peso a capitale della cultura. Numeri e dati che vanno presi e confrontati anche con la stagione passata per comprendere meglio il bilancio stagionale di questo 2024. Secondo me siamo andati leggermente, ovviamente nella media, sotto le aspettative ma leggermente inferiori con i bilanci. Ovviamente bisogna fare un bilancio a onda, ci sarà qualche albergo che ha fatturato di più, qualche albergo che ha fatturato di meno, però complessivamente secondo me c'è stato un meno rispetto all'anno scorso. Si parla poi di destagionalizzazione per comprendere quanto quest'ultima possa essere utile, come realizzarla e soprattutto se è in atto. Però questa è sempre una favola della politica perché amano dire colleghiamoci i borghi, allunghiamo la stagione col mare, eccetera, ma bisogna creare degli eventi, eventi come la ginnastica, delle esature. Questi eventi qui portano, voglio dire, effettivamente la possibilità di allungare la stagione. Quindi nell'arco da dicembre a arrivare a ottobre bisogna creare degli eventi in modo tale che la stagione sia allungata effettivamente. Così fare delle semplici enunciazioni sono veramente questioni di principio ma non di sostanza.